Mauro Gervasini, buonasera, benvenuto su questo palinsesto infinito del festival la passione per il delitto. Ti volevamo tanto qua perché una delle cose che ci mancava era parlare di fiction, di serie tv, di cinema che però centrino col giallo, col noir, col mystery, con il crime, con l'horror. No, l'horror no, però se c'è un po' di horror ci piace lo stesso. Ah ok, va bene. Dove sei e come stai? Allora sto bene, grazie, sono a casa come tanti di noi presumo e mi sono organizzato per poter lavorare da qua e per poter vedere le mie cose il più possibile su uno schermo che abbia come minimo un 32 pollici di larghezza, di grandezza, di schermi troppo piccoli dopo un po' mi viene la depressione, c'è un po' la mancanza del big screen. In questo sono un po' antico diciamo come gusti e abitudini. Beh, già il fatto che tu abbia iniziato dicendo a vedere, sono a casa a vedere, non a casa a scrivere, come rispondo io, a battere sulla macchina da scrivere, piuttosto che invece a digitare altre cose, tu sei a casa a vedere. Sì, anche sì, è vero. E che cosa vedi, il punto di vista tuo, che cosa vedi in questo momento? Allora, io sono, allora possiamo dire così che io indicativamente sono uno spettatore professionista perché sono un consulente della mostra del cinema di Venezia e quindi mi tocca vedere con grande piacere naturalmente, però ho una tabella di marcia, di visioni piuttosto contingentata, soprattutto a partire da questo periodo dell'anno, cioè subito dopo Natale noi cominciamo a vedere tante cose perché si entra sempre più nel vivo della selezione che nel nostro caso si conclude intorno, nella seconda metà di luglio per intenderci, metà luglio, 20, 25 luglio. Quindi il percorso è ancora lungo, però abbiamo già cominciato con le visioni, le riunioni, i confronti, gli incontri virtuali in questo caso. E poi naturalmente facendo anche il giornalista e occupandomi di generi, come tu sai è il motivo per cui sono qua, vedo anche le cose, soprattutto quelle di cui devo scrivere. Purtroppo è un periodo in cui magari i miei guilty pleasure o le cose diciamo così solo per piacere, delle quali non devo scrivere, faccio un po' fatica a incastrarle, però ogni tanto ci provo, insomma, qualche recupero o qualcosa che mi viene segnalata e che non posso perdere. Molto bene, adesso poi entriamo nei dettagli. Intanto diciamo che Mauro Gervasini, perché non lo conosca già da tempo, è stato direttore di Cine TV, è giornalista, è scrittore di libri, tra cui appunto quello che ti promuove nella giornata di oggi, è un libro antico, però ormai è un classico, che è un film sul poliziesco francese e ne hai appena pubblicato uno, appena, perché appena tutto quello che è uscito tra il 19 e il 2021 è appena, perché si è bloccato delle rigidi maglie di quello che sappiamo tutti, Cuore Acciaio, le atti marziali al cinema, che mi pare, Vietti è l'editore, che mi pare comunque sia in tema, Botti Sparro, è sempre il grande tema entro cui noi ci muoviamo, però in realtà tu sei un fine osservatore di cinema, cioè a me piace il tuo sguardo, sei capace di sintesi quando devi, perché fai dei tweet dove si possono leggere mondi in due o tre righe, che riguardano soprattutto il cinema, seguitelo su Twitter, e quello che, da cui voglio iniziare, sono le serie TV, perché sì, io in questo momento, in questo momento, ho scoperto delle cose che avevo lasciato indietro, come penso. Allora, se dovessimo muovere in questo momento, se tu dovessi consigliare tre serie TV che spazzino tra, appunto, il giallo, il noir, il thriller e il misteri, imperdibili, con una motivazione, che cosa metteresti nella tua top list? Allora, dunque, io ne scelgo tre che, diciamo, sono molto diverse tra di loro, pur appartenendo tutte al genere, e sono una anglo-giapponese, una britannica e una, invece, francese, perché, come ricordavi tu prima, diciamo, il cinema francese è un po' il mio ambito di preferenza. Amo moltissimo il cinema americano, il western è il mio genere preferito, però devo dire che il cinema americano è un discorso che non faremo oggi, perché ci porterebbe troppo lontano, ma secondo me è in crisi da vent'anni, quindi, insomma, preferisco se proprio devo. E allora, partiamo dalla, da quella francese, perché quella francese è la più difficile, forse, da recuperare, ma ci si riesce. Allora, è una serie non nuovissima, ma che comunque va assolutamente recuperata, che si chiama Braco, scritto Braco con la Q, che è il diminutivo di Bracage, che vuol dire rapina, ok? Ed è la storia di questo, innanzitutto, quello che gli americani chiamano showrunner, cioè la persona che si inventa la serie e che in qualche modo la supervisiona, quando non direttamente la realizza, la dirige. Lo showrunner di questa serie televisiva, perlomeno della prima stagione, è Olivier Marchal, che è uno dei punti di riferimento del Polar, cioè del noir francese. Un ex poliziotto, tra l'altro, quindi diciamo che molto spesso scrive e recita, perché fa anche l'attore e dirige cose che hanno a che fare anche con la sua esperienza. In realtà, poi Olivier Marchal, che non deve avere un carattere facile, ha litigato con i produttori, quindi a un certo punto ha mollato, però la prima stagione di Braco, che invece è tutta completamente realizzata da lui, è davvero, davvero, per me, uno dei grandi must del noir degli ultimi anni, assolutamente. Di quanto? Di quanto tempo fa è più o meno la serie? Dunque, la serie ha la prima stagione a sette, otto anni. L'ultima stagione, adesso ve lo dico anche con una maggiore sicura, no, no, scusate, la prima stagione è addirittura del 2009, quindi in realtà è di un po' di tempo, ma attenzione perché di tutta la serie, che sono quattro stagioni, si trovano facilmente i DVD, quindi ecco. Adesso dico qual è, diciamo, il lato negativo, perché io i francesi li amo molto, sono filo francesi, però qualche difetto lo hanno anche loro e lo riconosco io per primo. Sicuramente il più grande difetto che hanno è che non sanno fare il caffè, che per me è grave, ma vabbè. E poi il fatto che a volte bastano un po' a se stessi, quindi quando fanno i loro meravigliosi DVD, se uno non sa il francese è un po' in crisi perché, diciamo, spesso non mettono alcun tipo di sottotitolo. In questo caso ci sono i sottotitoli in francese, quindi se anche avete un francese un po' scolastico, però ci arrivate perché ci sono sotto i sottotitoli. Non c'è la traduzione, non c'è l'italiano? No, attenzione. Esiste anche il doppiaggio in italiano, che io sinceramente non ho, perché io ho il cofanetto quell'originale, però la serie è stata trasmessa in Italia da Rai 4, quindi esiste anche naturalmente in italiano e si può trovare sicuramente che si può trovare sicuramente. Purtroppo, devo dire la verità, senza nulla togliere la nostra scuola di meravigliosi doppiatori, siamo tra i migliori del mondo, però io non farei fatica a vederla doppiata, però naturalmente pur di non rinunciare. Comunque, il mio consiglio è cominciate a guardare la prima stagione, che è una bomba, e poi dopo vedete se avete voglia di andare avanti. Tra l'altro una caratteristica di queste tre serie di cui parlo è che non essendo americane hanno, sono più brevi. Di solito le serie inglese, tipo Peaky Blinders, no tanto per dirci, che è un'altra che avrei potuto consigliare, durano sempre sei, otto puntate a stagione, perché hanno meno soldi, magari durano un po' di più le puntate, però rispetto per esempio alle tredici standard della serialità americana, queste sono un pochettino più snelle e Bracconi in particolare sono sei, quindi ve le vedete proprio tranquillamente, come se fossero dei minifilm veramente poliziesco di cuoio, duro, calibro 12, proprio azione, insomma con delle trame molto elaborate. Questo è il primo consiglio. Venendo invece a dei tempi più recenti, cioè all'oggi, quindi agli ultimi due anni, ci sono due serie che voglio consigliare, una la trovate su Netflix, si intitola Giri, come la sto dicendo, quindi G-I-R-I slash A-G-H-A-J-I. Dunque... Mi manca, Gervasini, mi manca! Questa è meravigliosa, per me è meravigliosa, per me è la serie più bella dell'anno scorso che ho visto, non sono... vedo meno serie dei film proprio perché ho tanti film da vedere, quindi non sono un divoratore, però comunque tra le cose che ho visto io è sicuramente la migliore. Allora, Giri A-G-I sono due kanji giapponesi che significano dovere e vergogna con, come al solito, i giapponesi sono particolari perché è un singolo kanji in realtà ha delle sfumature infinite, quindi diciamo io vi do la traduzione più immediata, però poi c'è dietro un mondo, dietro questi due... i kanji sono gli ideogrammi per intenderci, che tra l'altro in giapponese kanji vuol dire carattere cinese, quindi è un casino, insomma è un mondo abbastanza complicato da starci dietro, è abbastanza difficile, però questa è una... la produzione di questa miniserie, perché anche qua sono soltanto otto episodi, è inglese, quindi britannica e giapponese assieme, lo showrunner però è inglese, si chiama Joe Barton ed è veramente veramente interessante perché racconta la storia di due fratelli, uno poliziotto, l'altro Yakuza, il giovane fratello Yakuza sparisce e a un certo punto però gli ex colleghi giapponesi lo ritrovano, in modo che non sto a spoilerare, lo ritrovano a Londra e quindi la scena è un montaggio alternato tra quello che succede a Tokyo e quello che succede a Londra, a Londra dove naturalmente i destini di questo poliziotto che verrà mandato a cercare di recuperare il suo fratello, quindi in missione tra virgolette in Gran Bretagna, i destini del poliziotto e del giovane Yakuza si mescolano con quelli della criminalità locale, quindi a un certo punto la Yakuza ha a che fare con la malavita londinese e quindi anche con un gioco di accenti, anche questo se potete... questo ha i sottotitoli in italiano, quindi guardate l'unico originale, questo veramente è... secondo me è stata una sorpresa dell'anno passata completamente inosservata, quindi ve lo vedete e riuscite. Il terzo invece, che invece è più di successo però forse vale la pena ugualmente segnalarlo, è una serie anche questa puramente britannica si chiama Gangs of London. Ah, bellissima! Ah, l'hai già vista? Eh sì, quest'estate è meravigliosa! È bella, è molto bella e la sta guardando anche mio figlio tra l'altro e questa la trovate su un'outv, quindi comunque ci vuole... c'è bisogno di un accesso a pagamento, ma per chi ha Sky invece è gratuita, ma vale la pena perché comunque è qualche cosa di particolare e la particolarità, allora potremmo definirla una specie di soprano... Sì, più raffinante. ...titanica, sì, però è solo per dare un'idea, nel senso di un scontro tra famiglie, in questo caso anche con delle differenze etniche, perché la malavita di Londra, come quella di Parigi, è una malavita che poi si divide anche in tante gang di etnia diversa, quindi in particolare gli albanesi, ad esempio, però la caratteristica è che l'ha realizzata un regista che si chiama Garrett Evans, che è gallese, che però ha passato molto della sua vita, parte della sua vita in Indonesia, a Jakarta, e si è appassionato di un'arte marziale che si chiama Silat, che è un'arte marziale tipica indonesiana, e lì ha fatto questo dittico, ma in particolare il primo, che si chiama The Raid, che è diventato un classico delle arti marziali. Quindi questa è una serie, che è una serie crime, però i combattimenti sono fatti da uno che è un appassionato di arti marziali, quindi vedete dei confronti alla scorsese in cui un sacco di gente parla, poi a un certo punto si menano e si menano in maniere rocambolesche, pindariche, spettacolari, quindi è anche abbastanza divertente, ma devo dire ha un qualcosa in più che è la qualità anche della recitazione, perché il cast che è fatto soprattutto da giovani attori britannici è molto interessante, nel senso che comunque sono volti che magari avete visto in altri telefilm, ma mai in ruoli da protagonisti, e che qui invece dimostrano di essere, da questo punto di vista, la produzione è molto buona. Quindi queste sono le tre serie che mi sento di... Stanno girando la seconda? Stanno girando la seconda, naturalmente, sì. Sto aspettando, con tutti i gattolini del finale. Sì, stanno girando la seconda, e allora, se vi piace il gangsterismo britannico-irlandese, e qui però purtroppo andiamo sul difficile, perché la serie non è mai arrivata in Italia, quindi esiste solo in inglese, si chiama Love slash Hate. Quella è veramente... è irlandese, quindi è il cosiddetto Irish Mob, però dublinese, quello DOC, perché anche qua, se dovessimo fare un po' di storia, la prima forma di criminalità organizzata negli Stati Uniti è stata quella irlandese, non quella americana. E quindi un po' se la sono portata dietro anche loro, no? Questa nomea, diciamo così, più sgarroppata, infatti poi è stata perdente nel corso del... tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento negli Stati Uniti. La gran parte delle vittime del massacro di San Valentino erano irlandesi, tanto per dire, quindi insomma hanno una tradizione criminale che è stata ottimizzata, capitalizzata in questa serie molto interessante, che si chiama Love slash Hate, che quella potremmo... è veramente una sorta di soprano irlandese, tra l'altro ci sono dei punti di contatto tra la cultura italo-americana e la cultura irlandese, pensiamo solo alla religione cattolica o a questo legame che c'è con la famiglia, che è un legame senz'altro meno freddo, meno algido rispetto a quello dei corrispettivi londinesi di Gangs of London, dove si capisce subito che ti si potrà... Lì c'è Shakespeare di dietro, è dietro. Sì, bravo, stavo per dire molto shakespeariana. Molto shakespeariana, quindi sai benissimo che traditori di tutti, per citare il maestro. Esattamente, devo dirti sì. Io avevo iniziato a vederla scettica, dopodiché mi ha trascinata, poi c'è anche il rapporto fra i fratelli, quella madre, c'è tutta la famiglia, come viene costruita, no? Ovviamente da tragedia, da tragedia shakespeariana. Bene, mi sembrano tre più uno, ottime indicazioni, alcune ci sono proibite perché... Ma c'è una in realtà, solo la avete se... Ecco, solo quella. Le altre si recuperano e si riescono a vedere sicuramente. Senti, adesso la domanda è cattiva, però neanche tanto. Vorrei che tu mi parlassi almeno di una serie, noaro, gialla, italiana. Beh, cattivissima. No, vabbè, l'ultima che io... No, beh, però in realtà cattivissima, ma per modo di dire... Adesso, se è una produzione internazionale, però secondo me 0-0-0 di Stefano Sollima, che è dell'anno scorso, sempre recuperabile, credo, su NaoTv, è di alta qualità. Sì, sono da dire. C'è da dire che Sollima gioca già in un altro campionato, nel senso che ormai è un regista, data anche la bravura tecnica che ha saputo dimostrare, è un regista che si sta muovendo in un panorama americano, quindi ha già fatto un pochettino il salto di qualità. E poi non possiamo... È un po' borderline, è un po' borderline questa serie. Sì, esattamente, però c'è una parte comunque che ha a che fare con l'Andrangheta, quindi, insomma, è legata allo stesso. E poi, vabbè, non posso non citare, ma io penso che i tuoi fedeli frequentatori di queste dirette la conoscono bene, è Suburra, più discutibile, secondo me, come risultato, nel senso più discontinua, però uno sforzo produttivo e narrativo anche importante, insomma, perché comunque sulla falsa riga del successo di Gomorra e così si è riusciti a fare un prodotto internazionale che, infatti, mi sembra che sia piaciuto, ecco, da questo punto, proprio a livello internazionale. Io sono meno convinto della serie, però comunque è sicuramente un buon prodotto. Ecco, e invece del nostro palinsesto Rai, di quello che ci propone... Vabbè, la cosa... Guarda, sinceramente, non lo dico per snobismo, perché veramente non... Io cerco di guardare sempre tutto con l'occhio, anche perché, dato il mio ruolo di consulente per Venezia, cerco di lasciare sempre i pregiudizi fuori dalla porta, però faccio un po' fatica seguire la cosiddetta serialità mainstream, ma proprio perché non ho la possibilità di seguirla, perché non ho il tempo. Però un po' per affetto nei confronti del personaggio, un po' perché mi sembra nel suo genere venuta bene per il tipo di collocazione che doveva, direi che l'alligatore di Massimo Carlotto, nella versione appunto televisiva, sia riuscita a fare un prodotto di qualità per un pubblico, per un target che magari non è esattamente lo stesso di 000, per intenderci, ecco. Certo. Comunque di Gangs of London, ecco. Certo, assolutamente. Ascoltami, Paola Piotti, che è la direttrice del Festival, chiede, dice, non amo le serie che valorizzano i cattivi, nessuno fa una riflessione sul messaggio che veicolano questi film, o serie nel creare il mito criminale. Sei d'accordo che le cose stiano così o invece pensi che ci sia un gioco anche dietro? Ma non è del tutto vero che nessuno faccia una riflessione su questi temi, anzi mi sembra che ogni volta che ci sono dei personaggi o comunque viene descritto questo tipo di mondo in qualche modo, sono state fatte delle scelte, come dire, io mi ricordo anche la discussione che ai tempi della versione cinematografica di Suburra, però poi dopo la cosa è rimasta anche nella versione televisiva, perché uno dei protagonisti del romanzo di Carlo Bonini e di Giancarlo De Cataldo è un poliziotto, che però non c'è più nella versione cinematografica e nella versione televisiva. Quindi è stata, diciamo così, tolto la persona che in qualche modo qualcuno potrebbe definire il buono della situazione. In verità però, devo dire, qui i miei amici francesi mi vengono in aiuto, perché loro non hanno mai avuto questo tipo di problema. Molto spesso i poliziotti sono, come citava il vecchio Fernando Di Leo in un suo film degli anni settanta, il poliziotto è marcio, nel senso non è così detto che il poliziotto poi sia veramente il personaggio positivo all'interno del film, quindi bisogna. Chiaramente queste sono delle grandi narrazioni che possono partire da cento motivi diversi, alcuni anche di cronaca, penso a Saviano nel caso di 000, ma che in qualche modo vogliono raccontare un determinato microcosmo e questo microcosmo è il mondo criminale. Poi si possono fare mille ragionamenti su come viene messo in scena questo mondo criminale, per esempio io non credo che si possa pensare che uno dei Goodfellas di Scorsese possa rappresentare un modello positivo per nessuno, sono dei pazzi furiosi, quindi voglio dire c'è anche il modo in cui viene raccontato. Mi interrogo di più invece sull'ambiguità che possono avere dal punto di vista della, non dico dell'identificazione, ma della fascinazione i personaggi del padrino di Coppola, che invece hanno dei riferimenti più, se vogliamo, teatrali, più legati agli archetipi della narrazione, per cui ti senti in realtà a volte di parteggiare per il mafioso e questa cosa, insomma, però è anche, come seconda lettura è anche interessante, cioè tu stai in qualche modo ti metti in discussione nel sperare che non arrivi la polizia a rapire, scusate, a incastrare oppure i rivali a uccidere Sonny Corleone nella prima parte del padrino, cioè sono tutti meccanismi che in realtà mettono in discussione lo spettatore e quindi da questo punto di vista sono salutari. Personalmente, essendo un appassionato come te e come tanti che immagino frequentino queste dirette del genere, io non mi pongo particolarmente il problema, a me piace il poliziasco francese dove di solito il migliore è quello che ha la rogna, quindi non hanno mai, ed è stata la grande differenza tra il noir francese e il noir americano, gli americani si sono dovuti inventare il detective privato perché non potevano fare il poliziotto borderline perché c'era il codice ICE, il poliziotto doveva essere buono, i francesi se ne sono fregati sin da subito. Basta vedere Slimane, il grande poliziotto che cerca Pepe Lemocco nel bandito della Casba, parliamo del 1936, che è l'unico che può entrare nella Casba perché è uno di loro, pur essendo un poliziotto è uno di loro, quindi nessuno gli torce un cappello perché sanno che è lo sbirro che arriva comunque da quell'ambiente lì e quindi gli portano per lo meno rispetto. L'ambiguità è enorme, ma non si sono mai posti questo tipo di problema. Sì, sono abbastanza d'accordo, anch'io forse in alcune serie c'è un indugio su alcuni aspetti un po' esaltanti, un po' magnificati, però tutto sommato. Ed è giusto stigmatizzarli, non dico di no, non sto dicendo che assolutamente. Sì, poi soprattutto per un pubblico che non è un pubblico avvezzo a frequentare la materia. Senti, però tu non hai citato True Detective, tu lo sai che io invece voglio che tu ne parli, lì invece i poliziotti sono, non dico adorabili in toto, però stai dalla loro parte sempre. Sì, assolutamente. Anche quando fanno qualche piccola nefandezza, ma tu sei con loro, cioè stai proprio con loro, con la loro mente, col cuore, con l'anima, che meraviglia è quella serie lì. La prima stagione, io purtroppo non ho visto il prosieguo, quindi... Devi vedere la testa. Ah, ho capito quale, sì, purtroppo non ho visto neanche quella, ma cercherò di recuperarla, quindi noi parliamo di Matthew McConaughey e di Woody Harrelson, quindi quella coppia. Ecco, guarda, è una serie sulla quale hanno scritto veramente tanti... È difficile parlarne, lo so. È difficile perché è stata davvero un punto di contatto tra un filone o chiamiamolo genere, che non necessariamente è legato al poliziesco, che è il thriller, alla silenzio degli innocenti, tanto per intenderci, e invece il più classico dei modelli del poliziesco americano, che è quello dei telefilm degli anni 70, quello della coppia, la coppia che sembra all'inizio male assortita. Guardate che anche Staschiacce ritigavano nella prima puntata, poi dopo diventano, diciamo così, la sorta di, come chiamano loro la bromance, cioè questa sorta di sentimentalismo fratellesco, di fratellanza tra i personaggi, oppure, restando al nome del filone, il Buddy Buddy, due personalità opposte che però trovano una complicità. Quindi da questo punto di vista è veramente l'incontro tra una sorta di messa in scena barocca, come può essere quella del thriller, e invece una classicità che rimanda al poliziesco degli anni 70, che è stata una grande stagione, sia per il cinema che per la televisione poliziesca americana. E da questo punto di vista devo dire che anche grazie alla sapienza della messa in scena, insomma, si è detto che sembrava più cinema, che non tutti si ricorderanno la famosa puntata, quella con Mezzo ai motociclisti di Matthew McConaughey, che tornava, diciamo, dove era stato infiltrato in Texas, in cui c'è questa lunghissima parte, credo, se non ricordo male, 15 minuti, 16 minuti, tutti in piano sequenza, che è un meccanismo di racconto per immagini che di solito in televisione si vede poco, perché magari è più faticoso starci dietro, è molto cinematografico, ha connotato grandi registi, penso a Brian De Palma, allo stesso Orson Welles, allo stesso Scorsese, quindi Scorsese ne ha fatti alcuni memorabili. Quindi voglio dire, il fatto che noi, quando parliamo adesso del piano sequenza nel genere, citiamo quello famoso di Quei Bravi Ragazzi e poi quello di True Detective, ci dà l'idea che forse una barriera è caduta tra cinema e televisione, ed è una cosa, è una cosa positiva, è una cosa, mi sembra, però qui lo dico veramente con cautela, perché, ripeto, io non sono un esperto di serie televisive, mi sembra che sia rimasto un modello un pochettino unico in quel tipo di panorama, cioè io non ho avuto la percezione che ci fossero delle serie o delle miniserie poliziesche americane di quella forza, però può darsi che non le abbia intercettate io, eh, devo dire la verità. Insomma, dicono in molti che è come la pensi tu, poi tu ti rigiudici che non sei un esperto, ma di cosa ne sai. Senti, abbiamo trovato tanto di serie, tanto di serie, che abbiamo occupato tutta la nostra mezz'ora, però io non posso lasciarti andare, se non con la promessa che parleremo di più di cinema la prossima volta, almeno con due titoli invece, non sottotitolati, due titoli che troviamo facilmente su una piattaforma delle nostre varie, Netflix, Sky e ovunque, che ti sono particolarmente cari e emotivi. Allora, sì, dunque, io prima ho citato, in questo caso vorrei citare un film italiano, perché ho visto che da poco sono disponibili su Prime Video, quindi sono disponibili per tutti alcuni film, citavo prima, di Fernando Di Leo, ecco, allora, adesso trovate su Prime Video sia La Malaordina che Milano Calibro 9, che sono due veri grandi classici del poliziesco italiano, ispirati anche se molto allontana a Scerbanenco, ma comunque quelli, per chi non li avesse visti, uno dei due almeno cercate di recuperarlo, perché? E poi l'altro che ho visto, anche questo, che è da poco disponibile e lo trovate sia doppiato che in lingua originale, credo anche su Rai Play, quindi anche per chi non ha, diciamo così, guardate, è veramente il classico del polar francese, Grisby, guardate Grisby, Grisby è una meraviglia. Non mi aspettavo che citassi Grisby, stavo aspettando solo il momento di parlare. Allora, guardate, è veramente, è un po' la mecca degli appassionati del poliziesco francese, dice, ogni tot bisogna tornare, beh, anche, perché lui è il mio regista preferito, insomma, Melville ha fatto sei noir meravigliosi, capolavori e tutto quanto, però Grisby è veramente la mecca del poliziesco francese. Ogni tot bisogna rivederlo, perché c'è dentro tutto, tra l'altro il regista, un grande regista, Jacques Becker, fece un altro grande film che è il preferito di Melville, che si intitola Le Truc, il buco, un carcerario meraviglioso, quindi un do coio coio, però Grisby rimane il punto di riferimento. Bene, era giusto che tu lo dicessi. Ascolta, Maddalena Jess, oltre a salutarci, chiede, la serie di Dexter, cosa ne dici? Non l'ho mai vista, sinceramente, è molto amata, è molto amata, ma io purtroppo non l'ho mai conosciuto. Usciranno sì, usciranno, stanno credo già girando, quindi quello per gli appassionati dovrebbe tornare. Mentre Davide Dornia dice, letterariamente vengono in mente anche gli Apple e Leonardo di Lansdale, serie tv non all'altezza dei romanzi. Lansdale mi piace però, mi risulta. Sì, vabbè, l'ho anche conosciuto, no, no, lui veramente è un personaggio fantastico, non ho visto la serie, ma conosco naturalmente i libri e mi piacciono. Devo dire, mi piacciono di più i libri di Lansdale, non di Up and Leonard, almeno alcuni di quelli che ho letto, però, insomma, è uno dei punti di riferimento della letteratura americana di genere, insomma. Qui sei più ferrata tu, forse. Forse, però direi che mi bastano le cose che hai detto tu. Ascoltami, Mauro, di quello che stai guardando, ovviamente non puoi dire niente, perché tutto quello che guardi è tutto segretato, vedi in previsione, in uscita, breve, medio, lungo termine, qualche cosa al cinema di molto bello per gli appassionati di noir e di giallo e senza dirci cosa puoi cercare di farci capire che invece che esiste, perché abbiamo bisogno di cinema, tu lo sai, lo dicevi prima, aprono le sale, ma con che film le aprono? Quindi, cosa ci aspettiamo? Allora, io sono in una fase, come dicevo prima, in cui ho iniziato da poco a fare questo tipo di ricognizione massiccia e quindi spero magari tra qualche settimana di riuscire a dare una risposta più compiuta e anche magari un pochettino più ottimistica. Per quanto riguarda il genere, continuo a registrare una certa mancanza del cinema americano e questa cosa è deleteria, perché se il genere non lo fanno gli americani è veramente complicato, forse perché hanno demandato tutto alla serialità televisiva e ai film della Marvel, nel senso che ormai fanno praticamente solo i supereroi e quindi. Ci sono però invece delle cose interessanti dal resto del mondo, però di più non posso dire veramente. Però interessanti vuol dire che ci piaceranno e che usciranno soprattutto, speriamo. Beh, guardate, secondo me il poliziesco in generale sta andando incontro ad una rivisitazione in varie parti del mondo, anche lontane dalle traiettorie che abbiamo toccato un po' anglo-francesi, che abbiamo toccato. Uno dei migliori polizieschi dell'anno scorso è danese, che si chiama sciorta. Ecco, purtroppo questo film ancora non è disponibile in Italia, ma dovrebbe essere uno di quelli che uscirà in Italia, quindi è stato comprato, quindi bisogna essere fiduciosi. Ed è la punta di un iceberg, nel senso, guardate che io non parlo della produzione scandinava giallistica, nei confronti del quale massimo rispetto, ma io sto parlando di polizieschi, cioè proprio di poliziotti che in questo caso addirittura vanno in una sorta di banlieue, quindi sembra un film girato a marcia. Sì, ne parlano benissimo di questo film. Guarda, l'ho visto ed è veramente, veramente bello, cioè è una sorpresa anche per la provenienza, perché uno pensa di andare a Copenaghen e di trovarsi in mezzo al mondo più bello e civile e fatato del mondo e poi invece gli succede una roba che neanche, Carpenter, tanto per citare il maestro. Quindi insomma vale la pena. E poi ci sono anche delle altre cose, adesso non posso veramente dire, però sul, diciamo, al di fuori dei percorsi, tra virgolette, più mainstream, si muovono cose molto interessanti. Senti, un'ultima domanda, poi ci salutiamo. Angela Migliore chiede se c'è qualcosa di thriller, commedia nera, tra le novità. Ma nel senso, thriller o commedia nera oppure thriller con media nera? Tutto vuole tutto, thriller, commedia nera. Quindi diciamo un thriller che non ci abbattano, thriller che… No, sinceramente mi sembra che in questo momento non ci sia nulla, o almeno perlomeno non mi viene in mente niente che possa andare incontro a questa sorta di commistione tra filoni, tra generi. Va bene. E comunque siamo già soddisfatti di tutto quello che ci hai detto, in attesa che il cinema riparta, che le sale si aprano, che si torni anche a girarli film, Mauro, perché sono ferme le produzioni, no? Eh, purtroppo in alcuni casi sì. Cioè, qualcuno riesce a fare le cose, non si capisce come, ma le produzioni, quelle a cui noi teniamo, sono ancora un po' congelate, quindi auguriamoci che succeda sempre qualcosa di buono, questo ci auguriamo. Intanto tu scegli bene, mi raccomando, a Venezia. Sì, speriamo. No, poi magari, facciamoci una promessa di rivederci prima del festival, così parliamo magari anche con un programma. Eh, dai, che così, insomma, se poi avete, insomma, chi ci ascolta ha voglia di venire, il festival vive delle persone che ci sono, eh, quindi bisogna… Noi lo sai che però vogliamo sapere solo gialli, no? Sì, certo. Io farò di tutto per agevolare la presenza. Molto bene. Grazie Mauro Giordini, grazie a Giovanni, Angela, Maddalena, Felix, tutti quelli che ci hanno seguito e a quelli che recupereranno la nostra chiacchierata su YouTube o sulla pagina del sito della Passione. Buon lavoro, buona serata. Grazie, grazie, buona serata a voi. Ciao Mauro.